Secondo lei cosa stiamo facendo praticamente per mitigare o provare a fermare il cambiamento climatico? Di fatto nulla, non stiamo facendo assolutamente niente. Chiunque di noi può controllare che cosa accade alla curva dell'anidride carbonica andando sul sito di Mauna Loa, che è il punto di riferimento per l'anidride carbonica nel mondo. Uno si collega su questo sito, può vedere l'anidride carbonica oggi, ieri, la settimana scorsa, un mese fa, un anno fa, dieci anni fa, eccetera. C'è un bellissimo grafico che viene fuori. Su questo grafico se uno ci mette sopra sugli anni, il protocollo di Kyoto, l'anno in cui c'è stata la COP di Parigi, la COP 25, eccetera, si accorge che non cambia assolutamente niente. Allora di fatto noi non stiamo praticamente facendo nulla, stiamo lasciando che l'anidride carbonica salga assolutamente indisturbata e questo è un dramma, realmente un dramma, perché noi dobbiamo al più presto riportare questa curva a scendere. Noi non abbiamo la consapevolezza di ciò che stiamo combinando attraverso il riscaldamento globale. Noi crediamo che un aumento di 2-3 gradi in un secolo sia qualcosa che serva a rendere, vabbè, a limite avremo degli inverni un po' più umidi, delle estati un po' più calde, ma sbagliamo completamente. Noi dobbiamo pensare a che cosa accade al nostro corpo quando la temperatura aumenta di 2 o di 3 gradi. Da 36,5 arriva a 39,5. Stiamo malissimo. La stessa cosa avviene per il pianeta. La temperatura è il singolo parametro che ha più importanza sulla qualunque reazione chimica, fisica, biologica. Quindi noi di fatto cosa succederà a un pianeta surriscaldato non lo sappiamo. Gli alberi sono la nostra unica reale soluzione per risolvere il problema del riscaldamento globale. Più ne mettiamo e meglio è.